Musica Per alimentare la mente anche in uno spazio di un supermercato come l'Ipercopia di Montevarchi Un bibliocop, uno spazio dedicato al libro, siamo con l'assessore alla cultura Pierluigi Fabiano Un passo ulteriore avanti anche per chi vuole fare la spesa e documentarsi con una sana lettura Un passo avanti giustamente ma non solo, grazie a questo progetto che mette insieme la nostra biblioteca comunale di Ginestra Fabbrica delle Conoscenze, la sezione SociCoop, un progetto regionale portato appunto in 25 per mercati C'è modo davvero di avvicinare i cosiddetti non luoghi con i centri culturali Molte persone, i dati almeno che abbiamo alla mano ci dicono che vengono qui per fare spese Poi possono appunto prendere un libro e accedere al prestito interbibliotecario Al prestito quindi dei libri presso il centro culturale possono poi prendere spunto per andare a visitare il centro culturale E viceversa, di tutto questo c'è da ringraziare appunto gli attori che ho citato E i tanti volontari che hanno partecipato e che animeranno questo servizio e questo prestito Credo che sia importante e credo sia un passo avanti per tutta la comunità Sono stati aperti altri bibliocopi in altri supermercati Questa giro è toccata a Montevarchi, ci siamo interessati Con la stretta collaborazione della biblioteca comunale Fabbrica della Ginestra Abbiamo dato gambe già da luglio scorso al progetto attraverso il bando della regione toscana Per l'acquisto di libri e dopo un corso di formazione per dei volontari che saranno qui presenti al prestito Da domani potremo venire al supermercato non solo a fare acquisti alimentari per il corpo Ma anche acquisti alimenti per la mente che sono i libri E qui ci sarà lo spazio che sarà aperto tre volte la settimana Il lunedì e il venerdì dalle 4 e mezzo alle 7 la sera E il giovedì mattina dalle 10 a mezzo giorno e mezzo Questa scelta oraria è stata fatta sulla base delle disponibilità dei volontari E sulla base del fatto che possono avere accesso al bibliocop anche i ragazzi e i bambini E quindi l'orario pomeridiano prevalentemente dedicato a loro perché la mattina sono a scuola E nel corso poi del tempo saranno fatte delle animazioni Saranno proposte in collaborazione con la biblioteca comunale della Ginestra Delle attività sia di lettura a voce alta, animazioni per i bambini, presentazione di nuovi volumi Quindi questo diventerà uno spazio vivibile e fruibile in tutto l'arco dell'anno Con iniziative anche mirate a precise eventi Ma soprattutto si potrà venire qui a scegliere, leggere, vedere e poi prendere in prestito i libri che più ci piace L'ordinanza è la numero 320 e la data è quella del 13 dicembre 2014 Quella che istituisce una nuova viabilità nel centro storico di Montevarchi Siamo con il sindaco Francesco Maria Grasso Si è detto un po' di tutto, traffico vietato in alcune parti della città Non si potrà entrare di notte, qualcuno avanza delle perplessità Ma cosa cambierà in sostanza? Ma in sostanza niente Perché di fatto già ora in certe ore via Roma si entra a frine alle 10 Poi c'è le autorizzate e il carico Allora intanto è un'ordinanza provvisoria Perché andremo dopo le feste, ora abbiamo interrotto, abbiamo sospeso Dopo le feste andremo a attivare i lavori per quanto riguarda il tratto iniziale di via Roma e piazza Varchi Quindi abbiamo solo detto che da giovedì fino al 12 di gennaio riapriamo in parte anche via Scennano Cosa facciamo? Il principio è che l'ovale storico è una zona traffico limitato Percorrenza massima 30 km Quindi c'è l'indicazione di privilegiare il pedone, il cittadino, colui che cammina rispetto alle macchine Le macchine non possono viaggiare a oltre 30 km orari Gli orari Noi abbiamo scelto una ipotesi, dicevo sempre provvisoria, fino a che non ci saranno le telecamere Finché non avremo finito i lavori, quindi sostanzialmente per il mese di marzo io presumo Abbiamo individuato un passaggio nel quale la mattina è libero accesso fino alle 11 Abbiamo messo il disco orario di un'ora in via Roma perché i 30 minuti ci erano diverse problematiche negative Quindi il libero accesso naturalmente monitorando bene i flussi perché è fondamentale Abbiamo impartito alla Polizia Municipale indicazioni precise di verificare la percorrenza Dopo le 11 è zona a traffico per chi richiede l'entrata, cioè autorizzati E qui essenzialmente gli autorizzati sono i residenti, chi ha i garage Ora in questa fase è un momento ancora provvisorio Quando vi saranno le telecamere fra un mese e mezzo Il residente, colui che ha il garage, chiede l'autorizzazione La sua targa viene inserita all'interno del circuito E lui entra 24 ore su 24, mette la macchina in garage e si muove Si muove come in alcune zone, essenzialmente via Cennano, in via Marzia C'è un accesso, una zona di 30 minuti di disco orario per caricare e scaricare Poi bisogna riportare la macchina fuori In questa fase provvisoria intermedia, la sera viene chiusa alle 7.30 Come succede negli ultimi 8 mesi Perché poi riattiviamo il cantiere il 12 di gennaio E quindi via Cennano e via Roma verrà chiusa per un periodo di tempo necessario per i lavori in cima a via Roma